Benvenuto da Marcello, benvenuto sul mio canale. L'argomento che voglio toccare oggi nel canale di Quantirica, canale YouTube di Quantirica, relativo al trading online con i volumi, è proprio dedicato all'order flow, flusso degli ordini, nello specifico alle tecniche di utilizzo del flusso degli ordini come strumento in mercati particolarmente volatili come quelli che stiamo vedendo in questi giorni, perché il conflitto tra Russia e Ucraina, insomma, sta un po' governando gli equilibri dei mercati finanziari internazionali. Punto numero uno, che voglio sottolineare come di consueto, ma magari qui sopra da qualche parte, non so dove sarà, ti metto il video relativo al flusso degli ordini, flusso degli ordini e time and sale sono due cose diverse. Il time and sale rappresenta la parte che viene colpita, quindi l'attore passivo, il flusso degli ordini e order flow rappresenta invece la parte che colpisce la parte attiva e di conseguenza l'oggetto di interesse e di studio e di rappresentazione di tutta l'attività di volume e di mercato sulla piattaforma di analisi e trading con i volumi di CareSplore. Detto questo, perché voglio fare questo appunto? Perché la domanda dovrebbe sorgere spontanea, ma l'order flow serve o non serve quando i mercati diventano così volatili? Perché devi sapere che spesso e volentieri se abbina il concetto di order flow a, voglio vedere, non so, magari i trade di una certa dimensione che impattano il mercato, ma durante i mercati volatili questi operatori che cosa fanno? Lavorano con dimensione ancora più rilevante o frazionano le loro posizioni lavorando magari con maggiore frequenza? Prima di tutto, regola numero uno, il flusso degli ordini deve essere filtrato. Filtrato, attenzione, filtrato e aggregato sono due concetti diversi, quindi order flow, filtrato. Che cosa significa order flow, filtrato? Che da un punto di vista di rappresentazione voglio togliere tutto il rumore generato dai piccoli operatori, dai piccoli speculatori, da noi per intendersi che siamo sul mercato a lavorare con uno, due, tre, quattro lotti. Quello non mi interessa per il movimento di mercato perché per quanto sia rilevante la nostra operatività, da un punto di vista di analisi, di identificazione è molto più rilevante e importante osservare magari l'operatore che sta impattando il mercato con una dimensione dell'ordine rilevante piuttosto che osservare i vari operatori piccolini che lavorano con size ridotte. Perché è importante osservare l'operatore con la mano forte, chiamala come vuoi, per il semplice motivo che ha la capacità di imprimere forza, direzione e intensità al movimento di mercato. Di questo stiamo parlando. È molto più rilevante Marcello che lavora sul mercato magari con uno, due, tre, quattro, cinque lotti o Tizio che lavora per un fondo che va a impattare magari il mercato americano, l'S&P o Nasdaq con 50 lotti, 100, 500 o chi più ne metta. Beh, da un punto di vista di analisi dei volumi sicuramente è la seconda scelta. Quindi order flow filtrato. Dal flusso degli ordini filtrato emerge una cosa molto interessante. Quando il mercato diventa volatile e particolarmente movimentato, gli operatori riducono la loro size e aumentano la frequenza con cui lavorare. Che cosa significa questo? Che spesso e volentieri le operazioni sono costruite. In termine tecnico, in gergo tecnico, quando si costruisce un'operazione tendenzialmente si lavora il denaro, la lettera e si va a lavorare, a inserire una quantità a mercato che non sia magari dettata da un ordine unico, ma magari più ordini spalmati a diversi prezzi che alla fine vanno a comporre un prezzo medio carico. In ogni caso, questa situazione si vede molto bene dal flusso degli ordini non filtrato. Quindi, regola numero uno. Gli operatori, soprattutto le mani forti, preferiscono ridurre la size degli ordini quando il mercato diventa particolarmente volatil. Regola numero due. Serve osservare tutti questi operatori da un punto di vista tecnico e pratico. Che scopo ha l'order flow? Allora, ha due scopi. Naturalmente deve essere filtrato perché sennò abbiamo una pila di righe che viaggiano per ogni scambio di mercato. Dall'altro ci deve mettere nella situazione di percepire il movimento di mercato. Percepire il movimento di mercato che cosa significa? Significa capire se il mercato è in un momento in cui si sta muovendo o sta entrando in una fase di stallo. Li senti quei bip, quei bop un po' più cupi? Io penso proprio di sì. Questi sono gli ordini filtrati che colpiscono il denaro alla lettera. Bip acuti, bop un po' più cupi e rispecchiano delle precise regole di filtraggio. Detto questo, che non è un argomento di questo video, che cosa faccio io? Perlomeno come mi regolo? Se sento che il mercato va in una fase di stallo, come adesso, faccio a meno di lavorare, se posso. Cioè, se ho l'occasione di prendere un'operazione a mercato, voglio prenderla quando il mercato si muove. Perché solo il movimento di mercato, ancora una volta, lo dico, lo sottolino e lo stradico, solamente quando il mercato si mette in movimento e genera movimento, offre opportunità. E soprattutto offre l'opportunità di recuperare delle posizioni che magari non vanno nel verso giusto, perché accidenti, succede anche di sbagliare, per l'amor del cielo, anzi, succede spesso di sbagliare e di conseguenza, se si ha un mercato, magari lento, plastico, monodirezionale, non si ha più l'occasione di entrare. Quindi, punto numero due, ascoltare il mercato. Fondamentale che si legga poi al punto numero uno sul filtrato. Punto numero tre, e poi vado a concludere questo video, è, benissimo, ma su quali strumenti si applica il flusso degli ordini? Perché spesso e volentieri mi capita di vedere, non lo so, magari il piccolo speculatore che apre 3, 4, 5, 6 grafici e altrettanti, se non più order flow, magari filtrati. E questo è un errore. È un errore che va corretto. Perché è un errore che va corretto? Per il semplice motivo che crea confusione. Sentire tanto rumore, vedere tanti strumenti che scambiano, magari in maniera non omogenea, il che significa che magari un euro-dollaro FX scambia diversamente rispetto a un Bund piuttosto che a un Nasdaq che, via dicendo, ha poco senso. Quindi, se ti organizzi, come faccio io, nella sessione americana per trattare quei due, tre strumenti massimo, perché poi di questo stiamo parlando, bisogna sovraspecializzarsi. E questo è un grande trucco, ho fatto un video a riguardo. Ma detto questo, la cosa importante è applicare l'order flow solo ed esclusivamente sugli strumenti che si desidera seguire. e applicare l'order flow con un filtraggio corretto, adeguato. Se io vado a mettere un flusso degli ordini filtrato per 30 contratti sull'S&P, questo suona di continuo. E che valore aggiunto mi dà? Nessuno. Per il semplice motivo che io voglio sentire, sì, il suono di quando gli operatori entrano al mercato, ma voglio isolare gli operatori più rilevanti. Quindi, punto numero tre, numero di order flow da seguire. Personalmente, quando c'è la sessione americana in andare, tendo a non utilizzare il flusso degli ordini sui mercati europei e viceversa. Questo perché? Perché il mercato dei derivati segue degli orari specifici, segue degli orari in cui è più ragionevole trattare la mattina piuttosto che al pomeriggio e insomma una serie di regole più dettate dall'idea del buon padre di famiglia che dal resto, perché parliamoci chiaro, un mercato americano, un S&P 500 alle 5 della mattina è ben diverso da un mercato americano che stai sentendo adesso come rumore alle 4 e mezzo o 5 del pomeriggio quello che sono. Per concludere questo video due cose molto importanti l'order flow è uno strumento fondamentale da un punto di vista operativo richiede calcoli molto intensi perché va sostanzialmente a rastrellare tutti i singoli ordini che colpiscono il mercato e li va a raggruppare per unità di tempo quindi si prende sostanzialmente il milionesimo di secondo che è l'intervallo di tempo più piccolo per i flussi che utilizziamo piuttosto che il millesimo dipende da quello che si va a utilizzare tutto quello che avviene con lo stesso identico tempo lo si abbina a un ordine poi si va a controllare naturalmente il numero di ordine sul mercato insomma una serie di altri controlli gli ordini sono univoci importanti e fondamentali non sappiamo naturalmente se sono aperture chiusure short long non ha importanza questo a un punto di vista analitico perché ce lo dicono ci facciamo un'idea della pressione dei compratori e venditori con altri strumenti disponibili in Ticker Explorer però da un punto di vista strutturale l'utilizzo del flusso degli ordini diventa e deve diventare uno strumento fondamentale da un lato perché ti permette di capire che cosa sta succedendo nel mercato e credimi a forza di osservare di ascoltare di sentire ti riesci a fare un'idea del movimento di mercato solo ascoltando i bip e i bop sembra sembra incredibile sembra assurdo ma la realtà dei fatti è questa bene con queste ultime parole voglio chiudere questo video più didattico alla lavagna che al monitor spero che i contenuti siano stati come di consueto interessanti che abbiano stimolato la tua attenzione se il video ti è piaciuto metti un mi piace iscriviti al canale non mi cambia la vita ma è un segno di apprezzamento che mi fa sicuramente piacere mi lusinga a questo punto buon trading buon gain buon lavoro da marcello ciao ciao